Secondo gli esperti sono in aumento i crimini commessi fra le mura domestiche, è vero, crudeltà domestiche, ce ne sono di terribili, guardate. Scuso! Brucia Scotta! Oh che bello si stia emozionando Scuso! No podia che manchino un te", no i tuoi! La citta! La citta! La citta! Ah! 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 Comunista! 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 Ah! 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 Sì, sì! Oh! Ah! 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 che bello! Che bello! Passiamo quindi alla politica estera, Medio Oriente, forse vicini a un accordo in Medio Oriente, è la nuova proposta di Powell e Bush, alla Palestina la striscia di Gaza, a Israele le squillo di Gaza, forse si mettono d'accordo. Le guerre di religione sono veramente infantili, pensate, si infonde, è solo un modo per dire al nemico, il mio Dio ce l'ha più grosso del tuo. Scienziati americani confermano, un asteroide cancellò dalla Terra i dinosauri più di 65.000 anni fa. L'asteroide nega gli addebiti, il suo alibi è stato Omar. Ehi, è stato Omar, io, eh, eh. Sport, tennis, è ufficiale, Andre Agassi e Steffi Graff si sono lasciati, sì, a letto erano sempre in discussioni. E' dentro, è fuori, è dentro, è fuori, è dentro, è fuori. Non poteva durare, non poteva durare. E per finire, e per finire, notizie dal mondo musicale, i Beatles incideranno una nuova canzone usando una frase risultata da John Lennon su un nastro. La canzone uscirà a giugno e sarà intitolata Non sono in casa in questo momento, è stato un messaggio dopo il bip. Ehi, non cambiate canale, abbiamo un grande show per voi stasera. Sono con noi Pippo Baudo, Samantha De Grenet, Afef e Cartica. Sembra il cast del prossimo Sanremo, eh. Eh, eh, è troppo per un piccolo show del mercoledì, dai! Allora, cominciamo subito. Il primo ospite, il primo ospite di questa sera è un uomo che in Vietnam mi salvò la vita. È con noi Pippo Baudo.